Naturalmente, a caro prezzo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sono il pacco di cazzo. www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Mamma... Mamma... Biakurai vuole vederti. Mamma... Yuki... Va con Kiri. Andrò da sola. Eh? Andrò con lei. Mi rallenterà soltanto. Perché fai così? Portami con te. Biakurai ha detto di andare insieme. Dimmi, Kiri. Uccidresti davvero, Angra? Certo. E se lui ti pregasse? Io passo che lo ucciderei comunque. Non ti credo. Yuki... Yuki, sei tu? Sono disarmato. Non mi uccidere. Ti prego, Yuki. Senti. Prendi la mia spada. Vuoi sempre dire che mi hai ucciso. Allora? Va bene. Non mi ucciso. Grazie. Yuki, sembra che ormai voi siate molto al di sopra delle mie possibilità. Chi sei? Il mio nome è Kuka. Ero un servitore di vostra madre. Ho qualcosa che vi interesserà sapere. Si tratta di rivelarvi la verità sulla sua morte. Vi è stato detto che era stata uccisa in un'imboscata. Yuki, in realtà, ad assassinarla è stato Byakurai. È falso. Menti! No! Byakurai ha ucciso vostra madre, Azora, principessa del clan di Takamikazuki. Adesso dovete scegliere se vendicarla e prendere il suo posto, oppure andarvene. Andarvene per sempre! Domani compirete vent'anni. Quello è il giorno in cui una principessa assume, secondo le nostre leggi, il dominio assoluto di tutto il clan. A voi la scelta. Guidare il clan, tutti quanti i suoi uomini, le sue immense risorse al posto di vostra madre come legittima erete. Oppure, abbandonarlo. Se decideste per la seconda via, venite alla vecchia miniera. Ho consegnato il messaggio, mio signore. La missione è compiuta. Ti ha supplicato di risparmiarlo. E mia madre ti ha supplicato. Di che cosa parli? La tua voce trema. La tua mente corre. Sei certa di quello che stai facendo, Yuki? Cerco una risposta. Byakurai. Hai veramente ucciso mia madre? No. Yuki! Rinfodera la tua spada. Io non ho visto niente. Non avrei mai voluto doverti dire tutta la verità. Tua madre, tua madre, volle tradirci e fuggi dal clan. Per questo è morta. Menti! Yuki! Sarà la spada, non servirà. E va bene. Allora muori! E ramai. Die! Le tue 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 le tue. Ja! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Che succede? No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Come pensavo eri tu, Kuga Tu sei Soma Ma guarda quanto sei cresciuta Quanto tempo è passato Ma guarda quanto sei cresciuta Quanto tempo è passato Yuki, è quello che volevo Principessa Yuki, non dovete morire Vuoi uccidere me? Non mi importa Ma devi lasciar stare La principessa Yuki Questo non posso promettertelo, vecchio Quanto tempo è passato Non mi importa Non mi basta A presto. 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 Si trova sulla schiena del leone Lì in quel posto le pulci Conducono la vita più sicura che possa esistere Grazie Ehi 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 Cazzo Dov'è la ferita? Oh 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 mi dispiace. Ehi, ti sta bene. Sì, sì. Sì. Hai visto, hai visto il signor, hai visto il signor, hai visto il signor Kido Koro? È morto. Cosa? Gli hanno sparato. Parto stasera stessa, lascio il paese. C'è felicità da qualche parte. Basta solo trovare dove. Lei chi? Una mia ospite. Un ospite. Forse tu hai già trovato la tua felicità. Beh, buona fortuna allora. Mi puoi chiamare se decidi di raggiungermi. Grazie. Perché sei tornata qui? Che cosa ti è successo? Non me lo vuoi dire? Meglio così. Mi sento più al sicuro se non so niente. Tu provi qualcosa nell'uccidere. Perché uccidi le persone? Per denaro? è il mio corpo che si muove. Quando impugno la spada e mi avvicino al bersaglio il mio corpo si muove e basta prima che io possa pensare a nulla. Sei solo una povera assassina, vero? un re smette di pagare le sue guardie e così loro mettono la loro arte sul mercato. Che vuoi farci? La vita è dura per tutti. No, tu uccidi le persone senza ragione. Non lo fai per difenderti o per difendere qualcuno che ti è caro. Tu non hai nulla da difendere. Uccidi e basta. Non come me. Io l'avevo. Una ragione per uccidere. Ne sono certo. Sì, l'avevo. Vieni con me. Vieni con me. Lei è mia sorella. Aveva solo otto anni. Tornai a casa da scuola e trovai sangue dappertutto. solo lei era sopravvissuta. Gli assassini furono rilasciati per totale mancanza di prove, credo. Io li ritrovai per poi ucciderli tutti. Fui catturato, processato e condannato. Quattro anni dopo, quando uscii dal carcere, non riuscivo più a vedere le cose come le vedevo prima. Ogni cosa mi sembrava differente. poi incontrai qualcuno mi disse che voleva che io tornassi a essere felice come un tempo. Nessuno mi aveva mai detto niente di simile. io ho fatto delle cose e sono stato spinto a farne delle altre. Ma pur di tornare a essere felice non mi importava niente di niente. non mi sembrava Rencchio? Sì. Ho qualche cosa che devo chiederti. Che cosa? Biakurai, pensi davvero che possiamo uccidere Yuki? Senza di lei non c'è altro leader in cui scorra il sangue dei Takimikazuki. E poi io... Poi cosa? Abbiamo perso tutti quelli che avevano quel sangue. Ma cosa cambia? Però... Che ragione abbiamo di continuare a esistere? Senza quel nome a guidarci? Non abbiamo bisogno di una ragione. Noi ormai... Non siamo più i guardiani di nulla. Io veneravo i miei antenati. Ed ero pronto a morire per la mia patria. Ma quando la monarchia cadde... Tutte le nostre spade ci furono tolte. La nostra memoria cancellata dalle droghe. Le braccia rese inutili... Dagli aghi infilati nei gomiti. La nostra base è data le fiamme. Fuggimmo per non ribellarci... ...alla nostra madre patria. Ti ricordi, Renkio? Quel gruppo di carri armati... Quello che vedemmo su quell'isola mentre fuggivamo. Un gruppo di carri distrutti. Mangiati dalla rugine e dalle piogge acide. Pervasi dal fettore dei cadaveri. Ma non c'erano corpi. Eravamo noi ad emanare quel fettore immondo. Allora... Noi eravamo già morti. Allora... Avvocati... Cibulopia... Cibulopia... Sì, pronto. Chi parla? Sono io. Ah, signor Chido Koro. Perché mi sta chiamando? Ti ho mandato uno schema interessante. Credi di poterci dare un'occhiata? Sì, certo. Guardo subito. Lo hai visto? Sì. Hai dieci giorni di tempo. Sei ancora lì? Dieci giorni? Io non posso. Allora quando? Mai. Mai più. Mai più. Sì. Capisca. Mi farò vivo io. Takashi, hai un'espressione molto interessante. E' un po' triste sul viso. Tu invece non hai nessuna espressione. Dimmi, hai mai provato la tristezza? Io la caccio via. Come faccio col dolore? Allora è così che uccidi le persone. Se sei triste dovresti soffrire. Se sei felice dovresti festeggiare. E' così che vanno le cose. Hai mai riso in vita tua? Quando sono triste io soffro. Lo faccio per ore. Poi per giorni. Addirittura per anni. Così. Sì. 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 Buono. Piavo. Ecco. Cos'è? Brava. Sì. Senti. Sai cos'è un'amichi ishi? No, non lo so. Il suo nome significa gemma bella e preziosa. È una pietra. Sono molto rare, sai. Potresti cercarle per un anno intero. E ritenerti fortunato se riuscissi a trovarne una. Hanno un segreto. Se le strofini su una pietra per affilare, ottieni un piccolo cristallo verde. Mia madre le cercava sempre. Quando ne trovava una, la strofinava con cura su una pietra e la metteva via. Una volta riuscita ad averne trenta, ne avrebbe fatto una bella collana per il giorno del mio matrimonio. Lei mi disse che quel giorno me l'avrebbe allacciata al collo lei stessa. Mia madre cominciò a raccoglierle a diciotto anni. Mi partorì a ventidue. e poi morì a ventisette. E poi morì a ventisette. Quando scomparve, aveva nove cristalli dentro un piccolo scrigno. belli, ma erano davvero troppo pochi. Non bastavano certo per una collana. Presto supererò l'età in cui lei mi diede alla luce. e poi quella in cui morì. Ma non ho raccolto nulla da poter lasciare a qualcuno. Perché io non ho nessuno. non ho nessuno a cui lasciare niente. Nessuno che... nessuno per cui... io voglia raccogliere qualcosa. Qualsiasi cosa. Ma non ho nessuno per me. Questa è in generale. Ma è vero? Per me. Questa è in generale. Andiamo via Via da questo paese maledetto Non c'è nulla che ci trattenga qui ancora Lo troveremo Un mondo dove possiamo dimenticare tutto Andiamoci Non c'è nulla che ci trattenga qui ancora Ma Adesso Sono felice Pensi veramente di poter essere felice? Anche se riesci ad uccidermi Il tuo sentiero sarà sporco di sangue Questo sarà il tuo destino ragazza Non c'è nulla che ci trattenga qui ancora Non c'è nulla che ci trattenga qui ancora Signor Ghido Koro Tua sorella sta meglio, veda Che cosa è venuto a fare qui? Ah sì Se si tratta ancora di quel piano io non... Non ti preoccupare, ho cambiato idea Questa volta ho un piano geniale in mente E sono convinto che anche a te piacerà Di che si tratta? Abbiamo finalmente trovato un punto di incontro accettabile con il governo Realizzeremo tutti i nostri ideali E alla fine Ti prometto che pochissime persone si faranno davvero male Che ne pensi Takashi? Una buona idea? Che ne pensi Che ne pensi Ah! 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 Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 A presto. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Levatevi di torno. È finita. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.